La buona notizia arriva al termine del sopralluogo congiunto effettuato dai tecnici del comune di Andria e dai Vigili del Fuoco. Le quattro famiglie che abitano vicino alla palazzina disabitata di Viale Virgilio potranno regolarmente far rientro nelle loro abitazioni. Il crollo del solaio infatti non ha provocato danni alle strutture vicine e sarà necessario solo mettere in sicurezza la facciata per evitare ulteriori pericoli alle persone. Resta però lo spavento per quanto accaduto questa mattina ad Andria. Il crollo del solaio ha allarmato i residenti e riportato all'attenzione il destino di quella palazzina disabitata da diversi anni. Il sopralluogo degli agenti della Polizia Municipale, l'intervento dei Vigili del Fuoco e i successivi rilievi dei tecnici comunali hanno scongiurato il timore che il crollo avesse interessato anche le abitazioni vicine. Nessun danno strutturale mentre è quasi certo che il crollo del solaio della casa disabitata sia da addebitare al peggioramento delle condizioni dell'immobile aperto ad ogni tipo di intemperie dal 2012. Nel marzo di quell'anno un incendio probabilmente di origine dolosa provocò il crollo di un muro esterno. L'abitazione sino a qualche anno prima aveva ospitato un collaboratore di giustizia e per questo dopo l'incendio la procura decise di mettere sotto sequestro l'immobile. Anche per questo motivo l'istituto autonomo case popolari di Bari proprietario dell'abitazione non ha potuto effettuare interventi di messa in sicurezza e a quanto sembra anche la richiesta dello IACP di di sequestro dell'immobile non ha trovato accoglimento da parte della procura.